Buongiorno a tutti, nella mia conferenza voglio cercare di attirare l'attenzione, di favorire una riflessione sul lavoro, ma sul lavoro contestualizzato nella globalizzazione, perché ne parliamo molto magari a livello locale, a livello nazionale quando va bene e si presta molto meno attenzione al fatto che spesso il lavoro subisce conseguenze che sono effetto di fattori e di decisioni che non stanno nella nostra realtà, ma sono decisioni e fattori appunto della globalizzazione. In particolare richiamare anche l'attenzione, su cui in verità c'è molto silenzio intorno alla scelta che ha fatto l'ONU, di assumere il decent work, sceglierlo, deciderlo e assumerlo, il decent work vuol dire il lavoro dignitoso, dopo magari lo illustrano un po' meglio, di assumerlo addirittura tra gli obiettivi dello sviluppo millennium, cioè il lavoro è una scelta che ha fatto l'ONU fra gli obiettivi dello sviluppo millennium, considerandolo il lavoro il fattore determinante per la dignità dell'uomo. Naturalmente si potrebbe dire che ci eravamo arrivati anche noi, però è importante che l'ONU abbia sancito questa cosa. E in particolare io voglio porre l'attenzione sulla responsabilità che si devono assumere le istituzioni pubbliche perché il decent work diventi una formula automatica che si applica in tutto il mondo. Perché nonostante l'ONU l'abbia assunto fin dal 2005 per la verità, ci sono tantissimi stati dell'ONU che ovviamente non rispettano il decent work, compreso gli Stati Uniti, compresa la Cina, compreso il Brasile e potrei continuare. Ora, su come è cambiato il lavoro per effetto della globalizzazione, i fattori sono tantissimi ovviamente. A me interessa sottolinearne uno, perché la globalizzazione mi pare che per tutti è acquisito che gli aspetti negativi sono determinati da elementi speculativi con cui è gestita la globalizzazione sia finanziari, ma io dico anche non solo finanziari, ma anche imprenditoriali, perché c'è anche imprenditoria speculativa. Io voglio richiamare un elemento che secondo me è stato decisivo e che ormai si è affermato purtroppo da decenni, mi riferisco alla delocalizzazione delle attività produttive. La delocalizzazione delle attività produttive è proprio una scelta di imprenditoria speculativa che trasferisce le proprie attività da quelle realtà dove il lavoro è più dignitoso, dove sono più riconosciuti i diritti contrattuali, dove ci sono retribuzioni di contratto collettivo e così via, e l'azienda è decentrata nei paesi più poveri, dove ovviamente il lavoro ha una condizione economica poverissima e dove per la verità insediarsi in quella realtà non solo c'è un problema di convenienza speculativa sul costo del lavoro, ma c'è una convenienza perché spesso in questa realtà povere magari l'impatto ambientale di quell'impianto non è tanto preso in considerazione e anche tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro sono più trascurabili e così via. Ora c'è un bellissimo rapporto che è quello del Lilo del 2012, Lilo è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro presso l'Uno, è un'organizzazione tripartita in cui fanno parte i governi, fanno parte i rappresentanti delle aziende e anche dei lavoratori, ha fatto un bellissimo rapporto proprio sulla condizione del lavoro a seguito della globalizzazione che ovviamente non posso qui illustrare perché è un bel volume, però richiamo due dati, un paio di dati importantissimi. In base ai paesi che ha preso in esame Lilo, il risultato è che per effetto proprio della globalizzazione di questi fattori di decentramento, di delocalizzazione produttiva, si è verificato nelle realtà invece dove erano più evoluti, diciamo da un punto di vista contrattuale dei diritti eccetera, si è verificata proprio l'azione del dumping contrattuale cosiddetto, perché? Perché le stesse produzioni, credo che qualche idea ce la possono dare i prodotti cinesi, così ci capiamo, aiutiamo a capirci che cosa significa quando tu produci in una realtà eccetera, cosa determina? Ha determinato di fatto uno scontro commerciale, se così possiamo definirlo, dove in quella realtà più avanzata sono stati e vengono messi regolarmente in discussione i diritti di quei lavoratori, al punto tale, scrive il rapporto dell'Ilo, che in quei paesi due terzi dei lavoratori non hanno più il contratto collettivo di lavoro, il rapporto di lavoro non è più regolato da un contratto collettivo ma da un contratto individuale, su 30 dei paesi, di tutti i paesi, su 30 diciamo i più avanzati di questa indagine, 30, di questi 30, 26 i lavoratori complessivamente hanno visto perdere del 4,4% il loro reddito, cioè l'effetto della delocalizzazione ha prodotto non solo ovviamente la delocalizzazione, ci sono anche altri fattori, ha prodotto in quei paesi un arretramento proprio delle condizioni di quei lavoratori. Sull'altro versante è vero che c'è qualche lavoratore in più, che può essere cresciuto qualche posto di lavoro, non sono migliorate le condizioni contrattuali, non è migliorato il reddito di quei lavoratori, è comunque un lavoro altramente sfruttato, anche qui va fatta una considerazione, che sarebbe singolare pensare che per far crescere il lavoro dignitoso dove si sta peggio bisogna ridurlo un po' dove si sta meglio, sarebbe davvero un'idea stravagante per capirci, ma non è un'idea purtroppo lontana dalla verità, dalla realtà, a proposito ci aiuta molto anche, perché credo che il problema vero è che nel mondo la ricchezza, la torta della ricchezza del mondo è divisa abbastanza male, non è divisa molto bene, se così possiamo dire. L'ultimo rapporto dell'Oxfam, che è l'organizzazione, la confederazione che nel mondo si occupa delle disuguaglianze, ci dice che nel mondo l'1% degli abitanti del mondo detiene il 50% della ricchezza mondiale. Ecco, allora io dico che se c'è il problema, anzitutto di far crescere il decent work, anche in quelle ragioni, cominciamo a partire dal fatto che la ricchezza, cioè non esiste che nel mondo una persona possa essere multimiliardaria, cioè non si comprendono più queste disuguaglianze enormi. Contemporaneamente negli ultimi 4-5 anni i lavoratori del mondo, la popolazione mondiale, dice il rapporto, ha visto diminuire il proprio reddito nel 90% della popolazione. Quindi ecco, io credo che da questo punto di vista occorre appunto perché richiamo questi dati, poi ce ne sarebbero anche altri molto utili, quelli su come è arretratta e sta arretrando anche il diritto dei lavoratori, come ad esempio la possibilità di associarsi, ci sono 44 paesi dove la protesta e chi organizza una protesta finisce in galera, quando va bene, sparisce oppure muore, cioè viene ammazzato. Ci sono 88 paesi dove è viettato lo sciopero e così via, quindi vi è un contesto davvero complicato da questo punto di vista. La cosa importante, ecco che resta in ombra in questo contesto, è appunto il decent work, che è una scelta che ha fatto proprio all'ONU, fu elaborata dall'ILO, ma fatta proprio all'ONU, e che dice delle cose fondamentali, impegna tutti gli stati, il decent work dice, ah, per essere degnitoso un lavoro deve essere duraturo e stabile, deve essere duraturo e stabile, deve avere una ritribuzione economica dignitosa, cioè che consenta al lavoratore di vivere con dignità la propria vita. Deve prevedere e consentire al lavoratore la libertà di associarsi e di farsi rappresentare, perché in una logica di diritto, ovviamente lo capiamo tutti, il lavoratore nel contratto è il soggetto debole, non è il soggetto forte. Nel momento in cui ha possibilità di associarsi, cresce la possibilità di avere una condizione più favorevole da un punto di vista contrattuale, retributivo e dei diritti. Infine, il decent work prevede ovviamente, in modo molto rigoroso, le garanzie e le tutele per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e quindi la protezione sociale. Se vengono meno uno di questi quattro punti fondamentali, non si può dire che in quella realtà c'è il decent work e quindi che c'è un lavoro dignitoso. Purtroppo su questo c'è una battaglia mondiale, gli stessi Stati Uniti, ripeto, non applicano il decent work, per non andare molto lontano, e paesi che erano più vicini al decent work se ne stanno man mano allontanando. Oltre al decent work, vi è un altro fattore che sta intervenendo sulle condizioni del lavoro in modo positivo, anche se mi riferisco al salario minimo, ora se ne parla anche in Italia, ma la Germania ha fatto la legge, ne ha parlato Obama quando c'è stato il primo sciopero mondiale di tutti i fast food, dove appunto propone il salario minimo orario di 10 dollari, la Germania ha approfato la legge di 8 euro e 50 all'ora. Bene, la Germania si è vista da parte del Fondo Monetario Internazionale a luglio, nella relazione sul rapporto dell'economia della Germania, si è vista da parte del Fondo Monetario Internazionale avanzare un avvertimento. Il Fondo Monetario Internazionale alla Germania gli ha mandato un avvertimento scrivendogli che il salario minimo avrà come effetto controproducente come minimo la perdita di 60 mila posti di lavoro come minimo, quindi sconsigliando in sostanza l'introduzione del salario minimo, ma perché? Perché qui veniamo anche al dunque delle cose globali di come si muovono e come avvengono e tra l'altro credo che sia sempre più chiaro. Il Fondo Monetario Internazionale sostiene che le nazioni più sostenibili finanziariamente sono quelle che hanno l'indice fiscale migliore. Cos'è l'indice fiscale migliore? L'indice fiscale migliore è quando per un imprenditore il costo del lavoro, il costo per tutto ciò che è il welfare, quindi le pensioni, per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda la sicurezza, il costo più basso. Se io investo in una nazione dove c'è il costo più basso in sostanza su questo, quello è l'indicatore fiscale migliore e quindi quella è la nazione che finanziariamente il Fondo Monetario Internazionale sostiene, va più aiutata. Credo che, purtroppo drammaticamente, questa linea mondiale finanziaria del rigore che diversi Stati e diverse realtà hanno applicato, l'Europa da anni ormai ha presso l'austerità, tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale ha corretto già sette volte le sue stime di crescita del PIL, le ha corrette al ribasso perché ogni volta si è sbagliata, cioè ancora non si prende atto che questa politica tutta finanziaria del rigore finanziario non fa aumentare l'occupazione, non diminuisce il debito pubblico, i giovani restano precari in tutto il mondo. Allora, in questo quadro il Descent Work assume un valore strategico, straordinario, ecco la mia conferenza serve proprio a fare in modo, non solo tra i presenti ovviamente, ma mi auguro anche in modo più ampio, a sensibilizzare l'importanza di questo e in particolare voglio dire una cosa, che in questo scenario globalizzato la cosa che non è più accettabile dal mio punto di vista è, per non essere molto bellicoso, diciamo il silenzio delle istituzioni, cioè il ruolo delle istituzioni rispetto alla dinamica speculativa che c'è nel mondo che sta scaricando la crisi sul lavoro, il lavoro sta pagando le conseguenze. Allora io dico che gli stati, le istituzioni devono davvero assumere l'impegno che è sancito dall'ONU del Dentello e farlo proprio, io dico questo, che gli stati intanto possono fare, hanno un'arma fortissima, io non so quanti miliardi di dollari siano la spesa pubblica nel mondo, intendendo spesa pubblica tutto ciò che poi viene utilizzato e innestato nell'economia, penso agli appalti di opere pubbliche, di strade, di scuole, di qualsiasi cosa. Penso ai servizi che vengono dati pubblici, dati in gestione ai privati, non è un problema, però sono comunque sempre pagati con la finanza pubblica, penso a scuole, penso all'acqua, penso a tante cose che il pubblico comunque paga e sta nell'economia in quel sistema, penso agli acquisti di beni e servizi, penso a tante forme con cui viene sostenuta anche l'imprenditoria, allora io credo che gli stati devono davvero ragionare e sancire un nuovo patto mondiale sul lavoro. Noi vediamo che gli stati, se si tratta del terrorismo, ebbene fanno poi lì, ci sarebbe da fare la riflessione, ma è un altro argomento e ci allontaneremmo dalla discussione, fanno bene, voglio dire, io dico che la stessa cosa deve scattare per il lavoro, perché il lavoro davvero è la dignità dell'uomo e se davvero le condizioni del lavoro stanno arretrando, sta diminuendo la dignità nel mondo per il lavoro delle persone, e allora io dico che gli stati, tutte le istituzioni, a tutti i livelli devono assumere il vincolo del decent work per tutto ciò che è legato e che dipende da spesa pubblica, qualunque cosa dipenda dalla spesa pubblica, quell'appalto, quel servizio, qualunque cosa sia, lì è obbligato quell'imprenditore a rispettare il decent work. Naturalmente io stato sono anche obbligato a pagare regolarmente le fatture, per non ingenerare un'idea antiprivato che non c'è e che non ho, non è questo il punto, il punto è che gli stati devono assumere questo, non è possibile, noi abbiamo esempi clamorosi, si costruisce il carcere anche qui e i lavoratori restano senza pagati per mesi, quel carcere è pagato con i soldi pubblici, non me la posso prendere nemmeno con l'impresa, è il pubblico che non paga l'impresa, allora lo Stato non può essere complice, i miliardi di dollari che si spendono ogni anno e che vanno in giro e che producono pil nel mondo, non possono favorire il lavoro indecente, questo dico, certo che non è semplice, mi viene in mente che qua sti troppo idealistico, però io lo vedo persino semplicissimo, perché questo non risolve tutti i problemi, però se ogni Stato comincia a dire che per ciò che gli riguarda, quindi ogni nazione per ciò che lo riguarda, nella sua nazione fa rispettare i principi del decent work, io credo che nel mondo il lavoro può cambiare proprio direzione, perché oggi la direzione del lavoro nel mondo è davvero una direzione che vede pericolosamente arretrare i diritti e le tutele di tutti i lavoratori, non vede proprio crescere la dignità nel lavoro dei lavoratori, quindi ecco io davvero credo che la scommessa sul decent work dipenda molto da quanto gli Stati, le istituzioni riescono a fare il patto per il lavoro, il fatto per la dignità del lavoro, il patto per il decent work che si impegnano ad applicare in tutto ciò che riguarda finanziamento pubblico, a qualsiasi titolo avvenga il finanziamento pubblico. Questo è un po' l'argomento che io volevo trattare, l'argomento che spero aiuti, favorisca la riflessione e mi auguro anche che serva a produrre qualche cosa. Grazie. Grazie.